Lo spagnolo del team Salomon, Soleil Jan Margarit, ha vinto la Veja Sky Race, valida per il campionato italiano di Sky Running. 166 gli atleti partiti questa mattina alle 7.40 dalla gomba di Bognanco per la gara più importante della tre giorni, perfettamente organizzata dal team race La Veja, che alla sesta edizione è riuscita a portare in Valle Bognanco il campionato europeo della specialità. 31 chilometri del percorso con un dislivello positivo di 2.600 metri lungo, sentieri, creste, morene e passaggi attrezzati con corde fisse, resi ancora più difficoltosi dalle forti raffiche di vento. Jan Margarit ha vinto con il tempo di 2 ore 53 minuti e 57 secondi, abbassando di oltre 6 minuti il record della gara. Alle spalle dello spagnolo il marocchino Elusin Elazauri con un ritardo di 1 minuto e 11 secondi dal vincitore. Sul terzo gradino del podio l'elvetico Roberto De Lorenzi. Per quanto riguarda gli azzurri, Daniel Antonioli ha chiuso al settimo posto ed in anni decimo Mattia Bertoncini sedicesimo e il cannobiese Cristian Minoggio ventesimo assoluto con un ritardo di 17 minuti e 36 secondi dal vincitore. Tra le donne ha vinto ancora una volta Denise Dragomir del team Serim, che ha percorso i 31 chilometri della prova in 3 ore 23 minuti e 30 secondi, chiudendo in 35esima posizione assoluta. Alle spalle della Dragomir la svedese Fanny Borgström e la spagnola Aenoa San Rodriguez. Prima delle italiane Stefani Jimenez, 76esima assoluta, poi Cecilia Basso e Angela Ammi della podistica Arona. Nella 15 chilometri, 128 i partenti e vittoria per Mauro Stoppini del team Sport Project VCO, con il tempo di 1 ora 10 minuti e 12 secondi. Sul podio con lui Andrea Prandi e l'atleta della Bognanco Roberto Giacomotti. Tra le donne ha vinto Ilaria Veronese davanti ad Arianna Matli e Cecilia Pedroni.